perfetto allora il saldatore a stagno va sempre pulito perché solo a punta fa l'ossido perché se no tre voli di più allora lo stagno vecchio e impari lo stagno vecchio quello che è qui sul condensatore ma sempre ripreso con dello stagno nuovo ok poi sul filo qua che arriva con rispetto niente sul filo che arriva collegato al condensatore si mette un po di stagno nuovo ok perfetto vedi che ha fatto la pallina nella fonda quindi vuol dire che lo stagno attaccato bene a quando faccio così perché pulisco la punta dal pavimento un casino della madonna e basta se li hai dei fast on fast on con la m finale come sono fa fa un po il buco dritti bastoni col buco delinato ok Zio Mucà!